ciao a tutti ragazzi e ragazze sono Follettine Creations questo è il mio primo video di presentazione e di solito lavoro con decoupage adesso da poco ho iniziato a lavorare il fimo quindi sono le prime armi con fimo ma sono le prime armi anche con i video quindi spero che sarete magnanimi. Ciao a tutti Follettine e Follettine benvenuti in questo nuovo vlog ciao a tutti Follettine e Follettine bentornati in questo nuovo video visto che me l'avrei lo strano braccialetto che indossa sempre lei è il dono di un Folletto che è sempre accanto a lei c'ho un cuore sopra e far vedere ai miei Follettini e Follettine come faccio il pane io iniziamo allora intanto la farina le metto un po' di farina ormai faccio occhio perché so bene o male quanto oggi proveremo a fare le bombe fritte praticamente io non le ho mai fatte quindi sperimenterò con voi come verrà no se verrà nei picchi file lo pubblicherò lo stesso allora faccio cuocere e poi ci vediamo dopo eccoci qui sono i canzoni di Follettine qui ci vuol pranzo adesso mi faccio l'orevo e buongiorno ti ricordo che erano consapevole stiletto e patate e così mi hanno fatto visitare questo è un po' di tirare questo intervento questo è uno ma ti senti tanto curvo? adesso io io come un uomo che sono passata a cuore con le tue con le tue so quello che è è un po' di tirare questo intervento premiamo bene ecco qui e anche questo colimone vedete tutte quante tagliate a pezzetti rigorosamente e mischiamo tutto per bene faccio occupare anche a lui un pantalone e una maglia così li metto domani anche se siamo a casa da soli voglio giustamente che abbia un Natale degno di essere chiamato Natale ciao a tutti i Follettine e Follettine bentornati in questo nuovissimo video oggi è un video particolare perché è un video annuncio di una cosa bella che mi è successa allora Follettine e Follettine questo qui è l'outfit che ho preparato oddio un capellino adorabile grazie mille tutti i ragazzini e le ragazzine che a scuola soffrono bullismo o a tutte quelle persone che in generale anche nei luoghi di lavoro ne soffrono di non aver paura di queste persone io ho imparato ad avere le spalle forti e non ho paura di queste persone neanche degli haters spegneremo le candeline insieme mi raccomando eh uno due due e mezzo tre auguri a noi Follettine Follettine evviva grazie per questo traguardo meraviglioso siete tutti fantastici non pensavo di arrivare a 10.000 iscritti adesso li abbiamo anche superati se non sbaglio vi adoro tutti grazie perché mi seguite sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti